Salerno. Odissea per una visita ortopedica negli ambulatori dell'ASL Salerno. Bisogna aspettare dicembre per farsi visitare a Cava de Tirreni o serve sobbarcarsi un viaggio della speranza fino a Sapri per trovare subito posto. La denuncia di Mario Polichetti, sindacalista della UIL, FPL provinciale e primario del reparto di gravidanza a rischio presso l'ospedale di Salerno. Le liste d'attesa sono talmente intasate e se qualcuno ha bisogno di una visita ortopedica urgente, l'opzione più rapida è recarsi a Sapri il 18 giugno. Ma questo significa percorrere 147 chilometri dalla zona nord della provincia, denuncia Polichetti. Un viaggio che comporta costi assurdi per una famiglia che già non può permettersi un consulto privato. Se si vuole evitare Sapri, le alternative non sono molto migliori. Bisogna aspettare fino a ottobre per una visita a Buccino o addirittura fino al 12 dicembre per un appuntamento nell'ambulatorio di Cava dei Tirreni.